Buona martedì 13 ottobre. È bello alzarsi al mattino con la temperatura che tende al freddo e potersi coprire. Ovviamente questo è un privilegio che non è dato a tutti. C'è qualcuno che si sveglia anche infredolito per la strada, ma di queste persone noi non ci prendiamo cura, riteniamo che siano quasi responsabili della loro condizione, ma non ne conosciamo la storia, non conosciamo quelle persone. Siamo spietati e cinici nel giudicare e non ci soffermiamo con sufficiente benevolenza e amore nei confronti di chi non ce la fa, di chi fa fatica, di chi ha rinunciato a lottare e che ha trovato un mondo competitivo che è convinto che solo i migliori abbiano il diritto di farcela. Una canzone, uno su mille ce la fa, la trovo veramente sconcertante, questa celebrazione del vincente, di colui che riesce nella vita. I media ogni tanto ci raccontano le imprese straordinarie di giovani dotati di talento che vincono olimpiadi di matematica, di tutte le discipline immaginabili possibili perché anche la conoscenza è stata messa nel lagone della competizione. E mentre l'autunno procede le foglie cadono degli alberi volteggiando nei loro infiniti colori, sfumature di colori, per poi poggiarsi a terra immaginando di incontrare un terreno soffice, coprendolo in modo fecondo, al limite tra la vita e la morte. Una condizione di grande pace e di grande sollecitudine alla fertilità, perché questo è il tempo nel quale la terra si prepara, ha bisogno di accogliere l'acqua, ma noi l'abbiamo in qualche maniera blindata, l'abbiamo resa incapace di svolgere la propria funzione, quella di regolare le risorse idriche. La nostra stupidità riduttiva fa sì che ogni mattina mezzi meccanici spingano rumorosamente le foglie, ammucchiandole, raccogliendole con dei mezzi meccanici. Mentre, in maniera che può essere considerata piuttosto ingenua, giovani, immagino africani, raccolgono con le scope le foglie lungo le strade, non chiedendole l'emosina, ma mettendo dei piccoli cartellini nei quali chiedono il riconoscimento del loro lavoro che è utile alla comunità. Due modi diversi di vivere il mondo. la meccanica che depriva la terra di un silenzio necessario e l'agire silenzioso degli umani, operoso, manuale, sono due prospettive completamente diverse. Molto spesso rubrichiamo la seconda nell'alveo delle condizioni del passato e esaltiamo la prima, quella meccanica, come il frutto del progresso, della tecnica, dell'intelligenza umana. Io credo che siamo di fronte a quello che mi è capitato di leggere in un libro ieri sera, un'espressione che trovo estremamente interessante, l'ignoranza attiva. Sì, perché tutta quella meccanica è ignoranza attiva. È aggressività che non tiene conto della complessità ed è naturalmente fortemente correlata alle forme di predazione dell'ambiente. Che cosa ha a che fare tutto questo con la nostra salute mentale, con la nostra dimensione spirituale, col nostro umore? C'entra molto, perché noi abbiamo alzato asticelle, l'ho detto in più occasioni, immaginando un umore che possa essere idealizzato attraverso il doping, un doping esistenziale fatto di immagini, di sogni, anche di sostanze chimiche che vengono utilizzate. L'incapacità di arrivare a quella asticella ci porta a essere delusi di noi stessi, a vivere in una condizione crepuscolare, non ce la faccio, mi sale l'ansia, è quell'ansia inutrita da sentimenti che non sono proprio edificanti, l'invidia, la gelosia e anche quella che poi è stata coniata con un termine che trovo piuttosto bizzarro, la mancanza di autostima, ed è stata declinata come se si trattasse di una malattia mentale, non come il prodotto relazionale che viene invocato nella condizione delle persone che dicono ma io come faccio a voler bene a me stesso, a rispettarmi, a credere in me stesso, se non ho raggiunto quegli obiettivi fantastici che sono l'obiettivo fondamentale dell'esistenza e tutto scorre, tutto scorre nonostante l'epidemia ci abbia ammonito, che effettivamente noi siamo fragili e che dobbiamo prendere delle precauzioni radicali, non estemporanei soltanto, come facciamo con le mascherine, con i moni, con i tamponi, con i distanziamenti, con vedremo adesso le modalità di poter stare insieme, non più feste, cerimonie con non più di 30 persone. Poi ci dicono anche che naturalmente la famiglia è il luogo più pericoloso perché il 75% dei focolai nasce in famiglia, cosa facciamo? Chiudiamo le case? No, state in famiglia, ma se avete detto 5 minuti prima che è pericoloso, però non dovete uscire. Ecco, queste sono le forme folli della razionalità umana quando ha a che fare qualcosa che non ha compreso e finge di aver compreso appieno. Una piccola notizia, ma non in ultima parte di un quotidiano online, Repubblica ieri, non so se ci sia ancora, affermava che in Australia hanno scoperto che il virus rimane sulle superfici per circa un mese, se non ricordo male il tempo, ha comunque un tempo consistente, superfici lisce, plastica, vetro, anche poi c'è una selezione di luoghi dove potrebbe anidarsi i vestiti per qualche settimana e ci dicono, eh attenzione, è chiaro che uno che vede una cosa del genere a quel punto diventa veramente, tra il paranoico e l'ipocondriaco non tocca più niente, comincerà a fare acrobatismi per non sfiorare con la mano una superficie, chiuderà le porte con i gomiti, non lo so che cosa farà, ma poi sotto sotto c'è il sottotitolo ovviamente, però tranquilli, prima ti allertano, poi ti dicono tranquilli, però tranquilli e questo accade solamente in condizioni sperimentali particolari, in laboratorio. Allora, questo modo di fare informazione chiarisce, se ce n'era ancora bisogno, che l'infodemia è uno degli elementi essenziali della condizione che stiamo vivendo. Titoli del genere vengono memorizzati per quello che dicono in prima istanza, non per il sottotitolo, è sicuramente nella coscienza inconsapevole, scusate il gioco di parole, ma è quella parte della coscienza che non passa attraverso l'elaborazione razionale, ma che resta memorizzata, quella coscienza inconsapevole, è un neologismo che esprime in questo momento, non ha nulla, non andate a cercare su internet o cose di questo genere perché me lo sono inventato al momento, ma non è una sciocchezza che propongo senza fondamento. C'è una parte che orienta la nostra coscienza in modo inconsapevole e ne fa parte, forse è quello che Freud chiamava l'inconscio, che fa parte delle nostre scelte e delle nostre decisioni, ebbene quella coscienza inconsapevole renderà il nostro rapporto con l'ambiente ancora più titubante, se ce ne fosse ancora bisogno naturalmente già abbastanza titubante. E questo modo di procedere anche, ieri sui giornali appunto si insisteva molto sulle narrazioni relative ai numeri, si fa una grande confusione, una enorme confusione, che nulla ci dice sulla reale infettività e letalità di questo virus, e nello stesso tempo non si dice quanto altre malattie siano ben più letali e siano legati agli stili di vita della popolazione. Nessuno prende precauzioni perché si educhi a prendere le distanze da stili di vita dissipativi. Sì, è vero, forse si vieterà la vendita dell'alcol, la somministrazione dopo le 21, ma poi nelle proprie case ognuno potrà strabere. Non c'è nessun ammorimento che dica attenzione, perché il consumo di bevande alcoliche è un fattore di rischio. Fumare sigarette è un fattore di rischio, anche per la risposta a questo virus, ma questo viene completamente tacciuto. Il nostro stile di vita alimentare, dissipativo orientato allo sciopero della fame, non si sa bene per quale motivo ognuno ha il suo, questo rapporto perverso con il cibo, è un fattore di rischio che mina profondamente la nostra salute. Ma di questo ovviamente non se ne parla perché non farebbe audience, non piacerebbe ai giornalisti che amano la semplificazione. Ieri ho sentito il professor Monti tentare un ragionamento sul recovery fund, ma il giornalista, la giornalista l'ha fermato dicendo no, fermo che adesso ho fatto io la sintesi giornalistica perché se no la gente non capisce. Ma questi giornalisti pensano che la gente sia deficiente o vogliono semplicemente educarli a quella ignoranza attiva che genera fragilità esasperata. Già noi siamo fragili. L'ignoranza attiva ci porta inevitabilmente a essere dei dissipatori inconsapevoli e di questo dobbiamo veramente incominciare a ragionare. Infine voglio ringraziare Stefania, Maria, Gabriella che con coraggio hanno proposto un pranzo conviviale domenica 18 ottobre, non so se si potrà fare, perché non so se le norme lo permetteranno. La loro aspettativa è anche la mia, era che ci fossero molte persone, prendendo tutte le precauzioni di questo mondo, sanificando, lavandosi le mani, ma questo è ovvio, è naturale, quando si mangia, prima di mangiare è meglio lavarsi le mani, ma questo vale per sempre. Usando le mascherine, ovviamente mentre stai mangiando, prendendo una stanza molto grande in modo che ci sia il distanziamento necessario per ridurre al minimo la possibilità del contagio. Tutto questo sarebbe stato profondamente garantito, compreso la presenza di un termoscanner. Non so se questo si potrà fare, ma il loro coraggioso tentativo va valorizzato e se non ci permetteranno di poterlo fare dovremo trovare una organizzazione conviviale che renda possibile la festa, non si possono proibire le feste. Questa è veramente una modalità mortificante che spingerà inevitabilmente a quei liberi tutti che abbiamo assistito, al quale abbiamo assistito alla fine del lockdown, che ha riportato ai comportamenti dissipativi. No, noi vogliamo fare festa, non dissipare le esistenze. Feste sobrie, gioiose, profondamente gioiose, passionali. Guardate che viviamo nel tempo in cui anche la sessualità è stata dopata, perché ha aspettative funamboliche e che non sa assolutamente vivere la dimensione della ricerca insieme del piacere nella gioia. Non significa ottenere delle performance inenarrabili. Queste si raggiungono solamente attraverso il doping, dove si bara sulla relazione. Dobbiamo mantenere le relazioni autentiche e vere e condividere il cibo è un atto di grande potenza terapeutica. Nella cura dell'anima uno dei punti fondamentali è saper condividere il cibo preparato con amore e anche se a distanza vissuto nella dimensione della relazione amicale. Quindi io spero che questo si potrà fare, temo che non si potrà fare. Ma comunque domenica sia un giorno di convivialità. Troveremo il modo perché questo sia possibile anche se le norme vieteranno i banchetti. Buona giornata a tutti.